Luciani, qualche settimana fa sembrava tutto a posto per un PD unito per la sua ricandidatura a sindaco di Francavilla. Nelle ultime ore sono tornate delle polemiche, il PD di Francavilla da una parte, il PD regionale dall'altra con il segretario Rapino. Cosa sta accadendo? Secondo me nessuna polemica, la questione è risolta, il problema è solo uno, che io ho preteso e pretenderò in maniera assoluta che chi si comporrà le liste, quindi chi si vuole candidare con me deve far parte di un gruppo che è già consolidato, quindi non è che potranno rientrare dalla finestra coloro che sono usciti dalla porta, in buona sostanza. E quindi stabilito questo principio non ci sarà nessun problema, si potrà andare avanti tutti insieme come mi auguro che avverrà. Qualcuno però dice che così facendo il sindaco Luciani rischia di dividere ancora una volta il PD e Francavilla. Ma io penso di no, la questione io penso che sia superata e penso che usando l'intelligenza da parte di tutti si potrà formare una squadra unica che vada avanti per il prossimo quinquennio. E sta già lavorando alle prossime elezioni, quali sono i punti su cui verterà la sua campagna elettorale in particolare? Beh intanto io sto lavorando come sindaco perché questo piace ai cittadini, quindi piuttosto che fare campagna politica si fanno gli amministratori e quindi si realizzano le opere. L'abbiamo sempre fatto, lo continuiamo a fare, il punto è quello di continuare nel percorso di crescita di questa città, un percorso avviato quattro anni fa che è evidente agli occhi di tutti. Abbiamo in mente una città del futuro molto molto bella e vedrete che i cittadini mi daranno fiducia per questo motivo perché stiamo facendo uscire questa città da un lungo tunnel nella quale era stata condotta.